Come mai hai intrapreso la carriera politica? Perché in realtà è quello che mi guida in tutte le decisioni che faccio, è la mia passione principale, potrà sembrare strano soprattutto in questo periodo di antipolitica dilagante che però io ritengo in realtà che sia un antipartitismo, cioè un antipartitocrazia. I partiti e i pettegolezzi e le voci di corridoio la fanno da padrona, che è chiaramente una politica distorta, anche solo se guardiamo i dati dell'importanza che i media danno alla politica interna, si capisce come questa dipenda dall'occupazione dei partiti, dell'informazione e quindi abbiamo un'informazione totalmente distorta. I dirigenti Rai sono scelti dai partiti, ma cosa ne sa un partito di come va fatta l'informazione, cosa ne sa un partito di come deve andare un'azienda culturale? Ma che ne sarà di anno zero a questo punto? Anno zero, per come l'abbiamo conosciuto il Rai, è chiaramente finito. I partiti sono uno strumento novecentesco, diciamo così, che non reggono più sia la caduta delle ideologie, sia agli strumenti che internet ci sta offrendo per organizzarci noi stessi. Non è più il tempo delle decisioni dall'alto che piovono sui cittadini, che non possono contribuire quindi alle decisioni che vengono prese. Ormai le più grandi manifestazioni e associazioni che abbiamo visto negli ultimi anni in tutti i paesi e anche in quelli dove ci sono le dittature, sono nati su Facebook oppure sono stati diffusi attraverso Twitter. Qual è la situazione all'interno dei partiti italiani attualmente? Quello che succede all'interno dei partiti è una cosa oscura e può essere anche una dittatura, una monarchia, un'oligarchia, quello che ci pare, tanto non c'è una legge che dice quale debba essere la vita interna dei partiti. Una grande democrazia malata la nostra e devo dire anche presa in giro quando si va all'estero, purtroppo la situazione oggi è questa, non è colpa di Berlusconi perché, come insegna Pannella da anni, Berlusconi è solo una grande conseguenza della distorsione del nostro paese, speriamo di poter sistemare al più presto. È stato, credo, dimostrato ormai qual è stata l'influenza della rete per quello che riguarda i referendum e anche le elezioni amministrative. Quale sarà secondo te lo sviluppo di questa influenza in politica? Non a caso l'autorità per le comunicazioni durante la primavera estate aveva cercato di mettere un bavaglio a internet con diverse associazioni e con tantissimi blogger e veramente chi capisce quanto internet sia prezioso, siamo riusciti per il momento a fermare questo bavaglio. Noi passeremo attraverso internet, dal basso riusciremo ad organizzarci per avere finalmente una democrazia diffusa, una democrazia deliberativa. In tutto il mondo, sia quello più democratico che quello più autoritario, internet è sotto attacco. Che cosa ne pensi della legge lega a proposito? Innanzitutto un governo che si dice liberale, che poi vuole controllare le vendite, gli sconti, cose del genere, dimostra ancora una volta come di liberale abbia solo la propaganda e invece gli atti concreti sono di tipo protezionistico. C'è stata un bel po' di mobilitazione invece per la legge Porcellum, che cosa ne pensi? Secondo te come andrà a finire? Io sono per un sistema chiaro, un bel maggioritario, un nominale, i cittadini italiani devono sapere chi votano perché alla base della democrazia c'è poi il controllo, se hai fatto un buon lavoro io ti rivoterò, se hai fatto un cattivo lavoro ti manderò a casa. Non mi sentirei di consigliare a nessun giovane di belle speranze che vuole rivoluzionare il mondo, cambiarlo, migliorarlo, di entrare in un partito politico e quelli che sono adesso al potere sono quelli che sono meglio organizzati e gli altri che sono là fuori invece o si rifiutano di organizzarsi perché ritengono che quello che vedono è negativo oppure non lo fanno. Quindi secondo te è possibile una politica che possiamo definire 2.0 che passi per democrazia diretta o partecipativa per capirci? Sì, sulla democrazia diretta ho dei dubbi nel senso che la politica diventa sempre più complicata, penso però che invece la politica possa essere diffusa e vi possano essere altre forme anche di democrazia, non quella che vede per forza contrapposta una parte all'altra, ma anche le forme di democrazia deliberativa, ad esempio mi piacciono molto quelle forme di consultazioni pubbliche che vengono fatte in alcuni paesi su i temi più controversi, ci sono tanti modi per coinvolgere i cittadini, non penso che dobbiamo essere dei cittadini 24 ore su 24 impegnati. Ti voglio chiedere che cosa ne pensi della manovra finanziaria? Raccontatemela questa manovra perché al momento nessuno l'ha vista, Tremonti dice che il cellulare non prende, quindi non può rispondere e Berlusconi dice che è tutta colpa dell'opposizione che al momento non ha fatto niente, anche perché è il governo che decide ed è la maggioranza che fa parte del governo, non hanno ancora capito quali sono gli elettori che vogliono accontentare. Tornando alle tue tesi, c'è quella sulle quote rosa, che era quella dell'attilennale, mi è sembrata molto interessante. Penso che le quote non servano a un bel niente e che siano solo un espediente per non mettere mano al vero nocciolo della questione, cioè la meritocrazia, anzi ritengo queste quote molto pericolose perché permettono ai potenti di turno di piazzare quelli a loro scelta che rispondono a determinati canoni, ma che comunque dovranno sempre rispondere a chi li ha piazzati là dentro. Quando ti trovi a fare una particolare denuncia, un'accusa, mettere qualcuno con le spalle al muro, ecco che quel qualcuno dice tu non devi parlare, tu non hai diritto di parlare, non ne hai la legittimità perché sei una velina. La solita macchina del fango insomma. La famosissima macchina del fango che ben conosciamo e ben rodata, ma secondo me ormai gli italiani che anche loro hanno imparato a conoscerla si sono stufati e quindi questo giochino, comincia a non funzionare più. Stiamo veramente arrivando alla fine di questo brutto periodo che ormai è da decenni che mette questa grande ombra sul nostro paese e però quando arriverà questo momento sarà il momento più pericoloso perché poi sono gli ultimi colpi di coda, sono i momenti in cui i più spietati possono fare gli ultimi comodi loro e quindi è il momento in cui veramente finalmente finalmente gli italiani questa volta non si potranno tirare indietro e dovranno come dice Bersani rimboccarsi le maniche.